La mia nomina presidente rientra nell'ambito della tradizionale alternanza Italia-Francia rispetto a questa associazione che già da diversi anni opera sul territorio della Val Susa, della Val Chisone, della Val Sangone, del Briansonnet e della Morienne. Il mio mandato, che è stato confermato dall'Assemblea poco fa, è nella continuità di quanto si è fatto in questi anni. Abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando su un Peter molto importante. Sulla base dell'esperienza fatta in questo Peter cercheremo di portare avanti una politica bottom-up, quindi di richiesta alle regioni di riferimento, sia in Italia che in Francia, di sostegno a dei progetti che partano dai territori.